Cari amici, com'è bello rivedervi. Adesso è una delle ultime trasmissioni dell'anno 2020 e io volevo ringraziarvi da parte del Signore e da parte di tantissimi anche che siete stati voi che mi avete incoraggiato durante questo anno passato, spesso in lockdown, a fare e organizzare questa rubrica perché la parola di Dio non rimanesse appunto legata. La parola di Dio non può rimanere legata in un cassetto nemmeno da un Covid, soltanto grazie alla rete, sembra in questo momento specifico. Devo a voi, devo a voi amici, devo soltanto a voi la lettera di plaudo, una lettera di benemerito che mi è arrivata dall'amministrazione di YouTube assegnandomi delle parole di... non di ammirazione ma dicendo che sono veramente felici della resa del canale YouTube e persone stanno guardando il canale Islam.com su YouTube. La parola di Dio veramente non è incatenata. E poi dobbiamo anche ricordare, ve lo voglio anche dire, che abbiamo anche un'altra virtù digitale che ci sta aiutando a promuovere la parola di Dio ed è Spotify. Sono praticamente i podcast e abbiamo visite sui nostri file evangelistici, abbiamo visite dalla Malesia, dall'Indonesia, dal Togo, Sri Lanka, dai paesi islamici. Sono arrivate diverse visite sui nostri file audio podcast su Spotify. Questa sera abbiamo nel nostro studio un ospite. Voi avete visto la locandina, si intitola appunto la misericordia fraintesa. Ecco abbiamo in studio con noi questa sera, per la prima volta in studio, abbiamo con noi un ospite nella sua funzione principale da moderatore, nel senso che lui cercherà di pormi delle domande come se le faceste voi stessi. E essendo un utente, lui stesso si chiama Luigi, Luigi è un utente dei nostri programmi, quindi conosce come voi le certe situazioni dove non è sempre tutto chiaro nel parlare del cristianesimo con i nostri amici musulmani. Ve lo presento, qui c'è appunto il fratello Luigi. Buonasera Luigi, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Ho il piacere questa sera di svolgere il ruolo di moderatore con l'amico Francesco, il direttore di Islamico. Il tema che tratteremo è molto bello, molto importante, perché vedremo da prospettiva sia cristiana che musulmana il significato, il concetto di misericordia, che è importantissimo nella nostra vita. Per cui questa sera stiamo attenti a quello che il direttore Francesco ci racconterà, ci porterà e sarà sicuramente di grande utilità per tutti. Prego. Sì, hai detto molto bene, perché infatti ci sono molte parole che noi stessi riconosciamo, riconosciamo noi, ci sono molte parole nella Bibbia come misericordia, perdono, grazia, angeli, inferno, salvezza, salvezza, Dio, ultimo giorno della Bibbia. Questi termini li troviamo anche nel Corano pari pari. Quindi i musulmani sono cresciuti anche loro, leggendo il Corano naturalmente, sono cresciuti anche loro con queste cognizioni, con queste stesse parole. Tuttavia, quando però un musulmano che legge il Corano, un cristiano che legge la Bibbia, si confrontano per parlare della propria fede, si accorgono come mai non ci capiamo? Usiamo le stesse parole? Come mai? Sei tu un testone? Con te non parlo più. Così uno volta le spalle, l'altro volta le spalle. Nella peggiore dei casi i due amici rimarranno amici, ma non parleranno più di fede. Perché non si trova? Bene, siamo qui proprio per questo. Perché con il vostro amico musulmano o lui con voi non vi siete mai chiariti? Pur usando la stessa parola? Perché il suo concetto, immaginate amici, voi siete adesso... Ora io dico a ciascuno di voi, pensa nel tuo cervello ad un mezzo di trasporto con due ruote. E' di quello che ti voglio parlare. L'80% avete pensato alla bicicletta. Vero? Io stavo parlando di monopattino. Sono i concetti che sono sbagliati. Il concetto islamico, come vedremo tra poco, del termine misericordia, deve essere ridefinito questa sera. Altrimenti tanti musulmani continueranno ad andare all'inferno perché partono da un presupposto diabolico, deviante di misericordia dal punto di vista coranico. Per questo motivo noi questa sera vogliamo essere di aiuto al dialogo tra cristiani e musulmani, ma anche affinché i nostri amici musulmani riconoscono alla fine della trasmissione che c'è soltanto una vera e reale misericordia, quella del Dio della Bibbia. È troppo veloce forse per alcuni, ma ci arriviamo adesso. Quindi, nello stesso tempo, volevo anche dirvi che come cristiano cerco anche di non parlare per partito preso, capito Gino? Perché parlare per partito preso è molto facile. Bene, cercherò di essere più obiettivo possibile. Perdonatemi se non ci riuscirò, ma se voi amici musulmani veniste a parlare con noi, vorreste condividere questa piattaforma, sicuramente vi daremo diritto di replica e potrete naturalmente puntualizzare quello che è il concetto di misericordia, secondo voi, secondo il Corano. Quindi io cercherò di attenermi più possibilmente ad un ruolo neutrale. Francesco? Dimmi Gino. Sì, volevo... Ho dimenticato di presentarti un po'. È giusto che si sappia chi sei. Sei il responsabile del ministero islamico, che è sorto a difesa del cristianesimo, dagli attacchi teologici e della religione islamica. Grazie alla tua dedizione, da alcune decine di anni, abbiamo una buona definizione delle cose. Finalmente c'è chiarezza, c'è un giusto confronto per le persone di buona volontà. Per cui, tu sei direttore di studi e ricerche per il ministero islamico ed sei stato precursore storico del panorama italiano per quanto riguarda il settore della missione evangelizzazione dei musulmani. Hai fondato nel 2001 la missione Meta, missione tra i musulmani, e dopo aver lasciato i panni del fondatore di Meta, ma questo ti rimane comunque, continui a dedicarti completamente ed unicamente alla missione che appunto si chiama Islamicon, comunicazione, no? Con Islam. Allora, e qui poi avremo poi delle domande da farti. Allora, una l'hai già fatta, e direi che hai già accennato che c'è una discordanza, anzi una diversità riguardo il termine misericordia utilizzato dai cristiani e dai musulmani. Come direttore di studi e ricerche di confronto Islam-cristianesimo, puoi essere più preciso? Ad esempio chiedo, e penso a nome di tutti, dal punto di vista semantico, da dove ha islamicamente origine il termine misericordia? Poi vedremo di pari passo la definizione biblica di misericordia. Possiamo partire da qui secondo te? Sì, mi sembra più che giusto. Mi sembra obiettivamente giusto. Sì, assolutamente. Infatti questa trasmissione, con queste definizioni di misericordia, sono solo ricavate dal mio concetto, dal mio pensiero. Tutti possiamo avere un'opinione personale. No, io sto parlando questa sera dal punto di vista della Bibbia. La Bibbia è scritta, uguale per tutti, non come il Corano, che è un'altra cosa. Ci sono tanti Corani, 30 Corani diversi tra di loro, ognuno dice di essere quello originale. Non confondetevi amici musulmani, c'è solo una Bibbia, una sola, e quindi non è che una definizione che viene dalla Bibbia, Gino. Chi è musulmano innanzitutto? Definiamo chi è musulmano. Musulmano deve aderire al 100% a tutte le dottrine più classiche che provengono, che spuntano naturalmente dal Corano. Da Allah a Mahometto, agli angeli, deve credere al giudizio naturalmente dell'ultimo giorno, devono credere naturalmente alle cinque preghiere, praticare le cinque preghiere al giorno, tutto, tutto integralmente, 100%. Ecco che un amico musulmano, qualsiasi, che è naturalmente un pio osservante musulmano, dirà sempre, e dico sempre, sempre, ho detto sempre, la mia bocca mi accusa, sempre, i musulmani non potranno mai dire, per certo, Allah mi garantisce la sua misericordia. Lo possono dire con la bocca, ma dal Corano non c'è nulla di simile. Infatti anche gli imam garantiscono fino a un certo punto, dicono avremo la misericordia di Allah, inshallah, se Dio vuole. Ma se proprio se Dio vuole. Tant'è vero che anche Gino Mohammed, prima di morire, disse che nemmeno lui era sicuro se fosse, se sarebbe stato salvato. Infatti dice, io sono soltanto un semplice, un semplice trasmettitore, un annunciatore, sono un uomo come tutti, non so cosa sarà di me, ne so cosa sarà di voi. Quindi da noi si dice un fuggi-fuggi generale, si salvi chi può. Così non è nella Bibbia, amici musulmani, così non è nella Bibbia. E spero che voi possiate venire, anche voi, arrivare a questa conclusione questa sera, scopo della serata. Quindi nel Corano, se uno non prega, fa quello che vuole fare, scusatemi il termine, il francesismo, se uno se ne frega della religione, sarà condannato all'inferno senza appello. Questo dice l'Islam, il Corano. Quindi, e se c'è un musulmano, un ligio, religioso, anche lui non può mai dirvi, per certo Allah mi dimostrerà la sua misericordia. Mai, mai. Ecco il punto forte della cristianità, che Gesù ha detto a noi tutti, prima di ascendere al cielo, ha detto ai suoi discepoli, non preoccupatevi, i suoi discepoli erano tristi, perché disse io tra poco salvo al padre. I discepoli erano rattristatissimi, perché sono stati con lui, lo hanno appena visto morire e risorgere dalla morte, sono stati con lui 40 giorni, e adesso lui dice, mo sparisco, dice dove te ne vai, cosa facciamo qua noi, siamo disperati, che razza di viversè, insomma, ci lasci nei guai, guarda un po' qui questa gente qui, cosa vogliono fare con noi. Lui ha detto, tranquilli, io salvo al padre, vado a prepararvi un luogo, affinché dove sono io, per certo. In arabo dicono, be' quale ta'kid, be' quale soror, be' quale soror, non inshallah, be' quale ta'kid. Per certo, voi sarete con me in paradiso. E poi, naturalmente, questa garanzia è anche trasmessa per tutti i suoi discepoli, per te, Gino, per me, per i cristiani, e questa sera vedremo il resto. Sì? Sì, facciamo un salto in dieta un po' alle origini, no? Direi che nella nostra sacra scrittura, nel libro della Genesi, si parla della caduta dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, dopo che ebbero mangiato deliberatamente il frutto proibito. Secondo la Bibbia, Dio è santo, perfettamente giusto e integro. Egli aveva preventivamente avvisato i nostri progenitori delle conseguenze derivanti dalla trasgressione del comandamento a non mangiare nulla da quel preciso albero. La Sacra Bibbia riporta che essi compresero di aver disobbedito a Dio e peccato contro il loro Creatore e Signore. Domanda. Quando si manifesta per la prima volta la misericordia di Dio nella Bibbia? Dio avrebbe usato misericordia per i nostri progenitori? E come? Cosa dice allora la Bibbia? Ma dunque, è molto semplice per noi cristiani. La Bibbia è arrivata innanzitutto a noi fedelmente, è stata trasmessa a noi fedelmente come unica fonte veritiera e anche su quanto sia accaduto ai nostri progenitori Adam e Eva. Quindi anche se non abbiamo la macchina del tempo, abbiamo la Bibbia che, cavalcandola, ci trasporta 5.000 anni fa, 6.000 anni fa, quanto era circa, non lo sappiamo esattamente, nel giardino dell'Eden, al tempo quando Dio ha creato Adamo ed Eva e li ha deposti, ha consegnato loro il regno nel giardino dell'Eden. E furono loro proprio i primi a ribellarsi. Infatti proprio Adamo ed Eva sentirono da Dio una forte raccomandazione che vedete io vi ho creati, vi ho messo a disposizione di ogni frutto, potete mangiare di ogni cosa, ma di ogni cosa. E quelle erano veramente le primizie, la frutta fresca e la verdura fresca, non contaminata come oggi dalla nebbia. Però, dice, però se voi mangiate d'acqua e l'albero, quel giorno morirete. Non è soltanto morire da punto di vista umano, ma morire anche da punto di vista spirituale. Intendeva questo, no? Il Signore. Morirete anche da punto di vista spirituale. Purtroppo, tutti sappiamo, tutti lo sappiamo, anche chi non ha letto la Bibbia, lo ha sentito, quando si dice popolarmente quella Eva lì, cosa ha fatto quella Eva lì, no? Tutti lo diciamo, anche i segliati, anche quelli che non hanno mai letto la Bibbia. Ecco, Eva è stata tentata per prima, è caduta, ed ecco, a sua volta ha trascinato nel suo peccato anche Adamo. Adamo non è meno malvagio di Eva, anche Adamo voleva stare sul pezzo, era curioso anche lui di assaggiare naturalmente di questo frutto, da questo albero. Non si può dire, come è comunemente detto, è colpa di Eva, no, è colpa di tutte e due, i colpevoli sono entrambi. E credo che su questo siamo pacificamente tutti d'accordo. Come conseguenza, quindi, di questa insubbedienza, sprofondarono, peccando, sprofondarono Adamo e Eva nella reazione di sentirsi perduti, completamente perduti, smarriti, a tastoni, non sapevano più cosa fare, si accorsero di essere nudi, o corsero subito ai ripari, andarono a costruirsi un indumento, a confezionare un indumento e due fogli di fichi, ecco, per coprissi le loro nudità. Dio vede dal cielo ogni cosa e cosa fa? Corre dal cielo, corre dal cielo, viene sulla terra, cammina nel giardino dell'Eden, i suoi passi si odono, il suo chiamare, Adamo, dove sei? Si sente la voce, ma si parla di un altro aspetto, quando Dio può essere in grado di venire dal cielo e incarnarsi e venire sulla terra. Quindi, Dio si manifesta, questo si chiama antropoformismo, che significa la capacità di Dio di incarnarsi, di prendere un sembianto umano e di camminare sulla terra. Antropoformismo, il primo fenomeno, che poi ci sarà più tardi, 26.000 anni dopo, attraverso Cristo, il vero antropoformismo, dove si incarnerà e vivrà 33 anni. Quello non era un sogno, non era un gioco virtuale, questo era proprio il figlio di Dio incarnatosi, fatto uomo, che camminava sulla terra. Bene, a quel punto là, Dio vede i suoi figlioli, Adamo e Deva, perduti, invece di legnarli, come se ne meritava, se ne meritava qualche legnata, se la meritava qualche legnata Adamo e Deva, invece lui li va a recuperare, dice guardate, avete fatto un pasticcio, per dirla brevemente, e istituisce un riprimo sacrificio, che più tardi vedremo nel Corano, non c'è nessun sacrificio per il peccato, per il perdono dei peccati. Questo è stato l'inizio, Gino, e questo appunto, a questo punto, se pensiamo che questo è stato la reazione che Dio ha avuto, Dio non li ha severamente uccisi. È vero che ha detto il giorno che voi mangerete morirete, morirete da una morte spirituale, anche della morte fisica. In quel momento, Adam e Deva, fino a quel momento, erano immortali. Nel momento in cui hanno mangiato dall'albero, sono diventati immortali, e tutta la natura è diventata naturalmente caduca, soggetta naturalmente a rovinarsi la natura, ma questo danno non è stato soltanto sulla Terra, ma è stato cosmico, in tutto l'universo. Quindi, vedete come il peccato non è stato soltanto qualcosa che ha toccato Adam e Deva, ma a livello cosmico ha coinvolto tutto l'universo. Durante la trasmissione metteremo i puntini su lei. Bene, bene. Ma mi sorge chiaro un'altra domanda. Secondo il Corano cosa accadde con Adam e Deva? Abbiamo accennato la caduta dell'uomo secondo la Bibbia. Per il Corano è ripresa tale quale forse saperlo potrebbe aiutarci a capire cos'è la misericordia nell'Islam? Allora, sì, dobbiamo fare un passo indietro. Alcuni giudicano che Dio sia stato troppo severo con questo albero, questa disubbidienza, no? Dicono, eh, ma come se l'è presa a morte. Amici, noi facciamo peggio di Dio. Non vi è mai capitato, a me sì, che qualcuno mi ha veramente ferito profondamente. Non avete mai detto a lui toglierò il saluto per sempre. Sì, quante volte è capitato? Vuol dire non parlerò più con lui, la nostra relazione gli diamo un taglio. Facciamo anche noi? Dio cos'è? Dio che è santo, santo, senza peccato, perfetto, ha creato Adam e Deva perfetti, li ha deposti in una natura perfetta, non deve offendersi, lui non può offendersi, vero? Infatti, Dio ha dato un taglio con Adam e Deva nel falli rimanere nel giardino dell'Eden. In quello gli ha dato un taglio e quella ripristino di ritornare nel giardino dell'Eden, vuol dire nel regno di Dio, nel regno di Dio, è ancora valido, ma bisogna ripristinare questo e lo ha ripristinato come vedremo questa sera attraverso mandando suo figlio sulla terra. C'è una trasmissione che mi diverte un po' oggi, quella con la Maria De Filippo, non vado a fare gossip, è una trasmissione seria questa, ma si allinea all'esempio. Allora, ci è capitato a noi di dire con quello io non parlo più, ci do un taglio. La trasmissione quella lì di Maria De Filippo, come si chiama? Si è posta per te. Chiamano in studio naturalmente davanti alla televisione sono 5 milioni di telespettatori chiamano la persona offesa e l'offensore. Teoricamente vogliono tifare affinché i due si riconcilino e il loro perché il loro rapporto, la loro relazione è stata deflagrata, distrutta. Non c'è più niente, non si palano più, moriranno ciascuno per fatti propri, ognuno finendo sempre di odiare l'altro. Forse, ma comunque non si parleranno mai più. A un certo punto la Maria De Filippo dice allora lo vuoi perdonare quello lì? Dice no, non lo perdono. Apriamo la busta o chiudiamo la busta? Chiudiamo la busta e uno se ne va per i fatti suoi e l'altro torna a casa sconsolato. Sa che era attristato, non può, ha tentato di tutto per ripristinare il rapporto con il suo amico, con il suo genitore in questo caso, con sua moglie, con il suo marito, la trasmissione, non c'è posta per te, la sapete tutti qual è, e torna a casa amareggiato, rattristato, dannato dentro di sé perché l'altro non ha dimostrato misericordia. L'altro, l'offensore, lo ha supplicato, si è umiliato davanti a 5 milioni di telespettatori, spesso li vediamo piangere a dirotto e l'altro, talmente ferito, talmente ferito, rimane chiuso nel suo dolore e nel suo odio, anche ben mascherato sicuramente, e dice no, chiudiamo la busta e non voglio proprio niente avere a che fare con lui. Ma Dio non ha fatto così. Dio non ha fatto così con noi. Lui ha diritto di dire chiudiamo la busta, ma lui l'ha riaperta. Ha riaperto la busta, dobbiamo fare questa trasmissione noi, noi evangelici, fratello Luigi. E quindi lui ha riaperto la busta soltanto per coloro che riconoscono Gesù come il suo figlio e il loro personale Salvatore e Signore. Solo in quel modo si apre la busta. Diversamente la busta non si può aprire. Quindi, tornando quindi al Corano, nel Corano c'è traccia della stessa cosa, sai Gino? Nel Corano c'è la traccia della stessa cosa perché nel Corano si ripresenta la storia di Adam e Eva, come ho detto adesso, nel giardino dell'Eden e loro mangiano la frutta e poi Allah dice il Corano non era offeso a morte. Il Corano dice che Allah è andato a parlare con Adamo e gli ha detto ok, forgetting, andiamo avanti, andiamo avanti. E così Adamo ha imparato a sua volta che non c'è un sacrificio di sangue perché nella vita, il sangue voglio dire è nella vita, vita per vita e vita per vita. Nel momento che si pecca l'uomo muore per sempre e il sangue suo deve essere riscattato dalla vita che c'è nell'atto sangue. Questo nell'Islam non c'è e i nostri amici musulmani tranne se hanno letto la Bibbia e non credono nella Bibbia. Molti non sanno questo. Quindi Adamo e Eva hanno sgarrato, hanno mangiato dall'albero nel giardino dell'Eden e Dio ha detto va bene Allah, no Dio, Allah, Dio e Allah non sono la stessa cosa e Allah ha detto va bene sforzatevi di fare cose giuste e andiamo avanti. Se fate cose giuste si va avanti se no fine Sì, un comodo compromesso via. Questo però è perché non è sempre un compromesso come tanti pensano. Se uno studia il Corano come io ho studiato il Corano Allah non ha creato Adam e Eva perfetti moralmente perfetti. Il commentario il commentario del Corano che è qua il commentario del Corano dice che Allah ha creato immediatamente la terra caduca immediatamente ha creato da Medeva deboli immediatamente mortali quindi non c'era un danno tu morirai perché Dio della Bibbia aveva creato immortali Allah del Corano non le aveva creati immortali immortali le ha creati già mortali è questo che mandi in aria tutta il concetto della misericordia amici voi non siete stati creati i nostri progenitori non sono stati creati fallaci sono stati creati perfetti e immortali se no perché voi vorreste tornare vorreste andare in cielo per diventare immortali che senso ha se Adam e Deva non sono mai stati creati immortali perché voi volesse diventare immortali siete più fulbi di Adam e Deva vedete che non torna la matematica tra la Bibbia e il Corano per cui siccome il Corano afferma che Allah non è stato capace di creare un mondo perfetto non è stato capace di creare Adam e Deva perfetti ha creato Adam e Deva imperfetti caduchi mortali quando loro peccano Allah non può alzare l'asticella e dire guarda che mo te meno perché dicono ma Allah ci hai creati così perché ci chiedi di più di quello che tu non hai fatto per noi se ci hai creati così piccolini mortali caduchi portati a peccare subito non puoi richiederci uno standard troppo elevato hai capito Gino? quindi questa è ignoranza della Bibbia che hanno i musulmani allora ora tornano i conti perché loro dicono ma noi tanto facciamo le preghiere facciamo l'offerta la carità facciamo come Adam e Deva non è questi i veri Adam e Deva non sono questi i veri Adam e Deva erano immortali i nostri progenitori sono stati immortali non mortali se no che senso avrebbe che la Bibbia dice ah nel giorno che morirete voi sicuramente nel giorno che mangerete sicuramente morirete ma perché Dio li ha creati immortali e noi aspiriamo a diventare immortali nel regno di Dio ma noi in un paradiso fatto di di femmine di femmine non ci sono femmine in cielo c'è la santità nulla di opprobrioso nulla di vergognoso può entrare nel regno di Dio Gesù ha detto nel regno di Ceni non si va a sposa non si va a letto non c'è carne non c'è carne non c'è carne non c'è vino niente c'è il fatto di essere riconosciuti servitori dell'edio vivente glorificati con il nostro Signore Gesù Cristo lodandolo in una immersione eterna eterna di gioia che noi non possiamo descrivere con le labbra con la bocca con la nostra mente perché è fuori dal nostro concetto fuori siamo limitati siamo finiti siamo creature finite in questo senso qua quindi sì sì hai espresso molto bene questo questo concetto ti volevo portare un po' più avanti adesso veniamo al tempo dei giudei la religione come la comprendevano la praticavano gli antichi giudei generalmente consisteva dell'impegno da parte dell'uomo Pio per piacere a Dio attraverso la stretta obbedienza alla legge mosaica applicando però una mentalità fortemente giustizialista cosa ci dice riguardo? questo qui è infatti era inevitabile che quando è venuto Gesù Cristo quando Gesù insegnava ai suoi discepoli che venite a me diceva praticamente al popolo al popolo dei giudei il popolo che praticamente non era osservante quindi disse venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le anime vostre il mio gioco infatti è dolce e il mio carico è leggero ora nella notte in alto quando Gesù parla di un gioco parafrasato era uno strumento che veniva collocato al bue il quale a suo volto doveva arare e così agire trainare ecco dice il mio carico è leggero perché Gesù non chiede di adempiere inutili ritualismi religiosi formalismi religiosi o cose impossibili ma chiede semplicemente di presentarsi quale se stessi cioè con le mani vuote e dire Signore io vengo a te a mani vuote voglio essere oggetto della tua misericordia abbi pietà di me Signore per favore continuerò a fare le opere religiose sicuramente ma non come sostituzione delle mie del mio peccato perché il mio peccato è troppo grande davanti a te mi presento sempre a mani vuote quando Adamo ed Eva quando Abele Gino ti ricordi Abele? direi sì ti ricordi che cosa ha fatto Abele quando ha fatto un sacrificio racconta beh è stato il primo a comprendere che bisognava offrire a Dio dei sacrifici di animali sì che era figura di quello che poi sarebbe stato nel tempo come per gli ebrei e poi come figura di Cristo sacrificio perfetto e poi invece Caino qui poi Caino che credeva anche lui di fare bene e invece non dava l'offerta giusta non aveva preso in considerazione quello che doveva essere un sacrificio vero e proprio e non il frutto della tua terra allora tornando giustamente grazie Cino tornando quindi a questo risvolto i farisei odiavano Gesù perché secondo loro Gesù distoglieva i giudei dall'eseguire e espletare i doveri della legge mosaica dietro tutto all'espletamento dei formalismi religiosi c'era anche un giro di denaro infatti in questo giro di denaro rimpinguavano questo denaro rimpinguava le casse naturalmente dei custodi del tempio e quindi le parole di Gesù allontanavano venivano fraintese perché Gesù diceva ognuno vada dove vuole ognuno non preghi non era questo ma i farisei fraintendevano un linguaggio di Gesù che stesse dicendo non andate a pregare non andate nel tempio no 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 non era questo era l'enfasi e infatti Gesù dirà poi che l'enfasi era posta più in e dice qua qua era l'enfasi a quale Gesù non stava bene disse innanzitutto disse innanzitutto disse una volta Gesù rimproverò i farisei davanti alla folla dicendo molti si siedono sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli iscrivi e i farisei quanto vi dicono fatelo e osservatelo vedete osservatelo ma non fate secondo le loro opere perché dicono e non fanno leggono infatti i pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente ma loro non vogliono muovere neppure con un dito quindi un doppio standard questo faceva arrabbiare i giudei e poi naturalmente Gesù quindi in un altro passaggio di Matteo dice quindi fate quello che loro vi dicono ma non fate come fanno loro poi venite a me e prendete il mio gioco perché il mio gioco su di voi è leggero venendo poi a quello che gli interessi commerciali una vergogna che ruotavano intorno al formalismo religioso Gesù una volta entrò nel tempio scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere rovesciò i tavoli dei cambiavalute le sedie dei venditori di Colombe e disse loro la scrittura dice la mia casa sarà chiamata casa di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladri questo è da quel momento in poi i giudei hanno pensato di naturalmente hanno capito che era il momento di eliminare Gesù per questo motivo hai posto enfasi sul formalismo religioso terribile dei farisei di quei tempi cosa che prego no dimmi 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 Luigi quello che Gesù non sopportava l'ipocrisia perché bisogna essere veri davanti a Dio quindi hai ben descritto la situazione di allora per quanto riguarda i sacrifici le cose vere e mentre loro ne avevano fatto un mercimonio ormai era un mestiere quindi davanti a Dio bisogna essere veri e questo è tutto e sai Gino questo business della fede non bisogna rimproverare i giudei bisogna rimproverare proprio i signori i custodi della moschea di Elamecca i custodi della moschea di Medina sai quanto business fanno sulla fede di poveri innocenti che credono di assolvere la volontà di Allah sono senza parole sono senza parole cioè l'incidente che è successo lì nel tempio dove Gesù prende i tavoli cambia valute si potrebbe sicuramente replicare anche la Mecca ma sai che alla Mecca ci sono cioè anche se l'Arabia Saudita non dovesse più trivellare petrolio campano adagiamente bene adagiamente bene soltanto sui pellegrini il PIL del prodotto interno lordo ora è il petrolio che ingrassa i custodi della moschea dell'Arabia invece devo dire anche un'altra cosa che secondo le ultime scoperte ecco siamo qui sulle ultime scoperte scientifiche e archeologiche sono state accertate le prove storiche che l'Islam non è nato alla Mecca hai sentito Gino? si sono sono basito vai avanti l'Islam non è nato alla Mecca in Arabia Saudita ben si l'Islam è nato in Giordania nella città di Petra lì c'erano i primi movimenti del profeta dell'Islam a Petra perché siamo arrivati alla Mecca dell'Arabia Saudita perché c'erano due regni il regno Omayade e il regno Abasside questi due regni musulmani prima è venuto il regno Omayade e quelli erano quelli i musulmani tradizionalisti andavano a pregare in direzione di Petra loro volgerono la preghiera verso Petra in Giordania c'era una Kaba anche lì anche lì c'era una Kaba questo edificio nero ma gli Abassidi hanno visto un mercimonio una un'occasione di fare i soldi e hanno trasportato tutto l'Ambaradan che era stato fondato da Mohammed a Petra in Giordania e l'hanno trasferito in Arabia Saudita e attraverso 200 anni quindi giochi di palazzi hanno spostato giochi di palazzi hanno spostato la religione dell'Islam dalla Giordania in Arabia Saudita e ora miliardi di musulmani dal dal IX secolo questo è accaduto nell'VIII secolo dall'VIII secolo a oggi sono stati vittime di una truffa truffa tra gli Abassidi e gli Omayedi è triste questo e in più adesso la Regia Saudita naturalmente si ingrassa si ingrassa sul pellegrinaggio grazie agli Abassidi che venivano ritenuti i musulmani non tradizionalisti ma musulmani modernisti spostarono tutto traslocarono tutto dalla Giordania traslocarono tutto in Arabia Saudita questo è business questo è business non ci posso credere non ci possiamo credere veramente ora il Corano il Corano ha una particolarità che nelle sue pagine il Corano tratteggia aspetti geografici estranei all'Arabia Saudita estranei per quel motivo gli studiosi hanno iniziato 10, 15 40 anni fa e adesso sono emersi in queste ultime settimane le prove archeologiche che l'Islam in effetti è nato in Giordania e non in Arabia e Mohammed era sì arabo ma non era dell'Arabia Saudita lui era un nabaiota nabaiota che è un'altra cosa quindi perché la religione in sé voi ritenete che è giusta ma è stata trasportata traslocata dalla Giordania in Arabia Saudita quindi io prego che il Signore ci dia di essere uno strumento questa sera anche se vi sciocchiamo ma perché vi vogliamo bene va bene e se volete trattare questo argomento siamo qua vi volete raggiungere vi potete scrivere volete il mio numero di telefono mi scrivete vi do il telefono ci beviamo un caffè al bar e stiamo tutti insieme risposta alla tua domanda ampiamente hai anche allargato su argomenti sicuramente molto interessanti che ci hanno fatto piacere direi che potresti concludere lasciandoci qualche parola che non so tratto dalla Bibbia riguardo la misericordia che è il tema centrale di questo nostro incontro allora la definizione di misericordia è la definizione di misericordia è non essere puniti in proporzione dei peccati che noi abbiamo commesso questo è la definizione di misericordia nell'Islam la misericordia è che una misericordia astratta la parola esiste ma non è mai una garanzia di Allah che viene rilasciato in modo condizionale cioè se tu fai del bene forse ti riconoscerò la mia misericordia dice Allah quindi è un premio condizionato dalla buona condotta condizionato dalla buona condotta e dall'assoluto servilismo alle cose che Allah comanda nel Corano la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo invece è gratuita ed è a disposizione di persone che non se lo meritano per niente anzi appena uno attiene che la misericordia è un suo diritto decade la misericordia vero o no? decade scompare si frantuma invece quindi non è la misericordia del Dio della Bibbia legata alle nostre capacità performanti di quante volte siamo più bravi degli altri nell'esprimere la nostra pietà no quello faremo tutti la fine di Caino è caduta penso penso al significato anche di misericordia proprio etimologicamente che è una compassione di cuore cioè di qualcuno che si dispiace per te e che quindi agisce per ristabilirti per risollevarti e questa è una delle più belle espressioni di Dio e qui abbiamo anche questo verso che traiamo dalla Bibbia di profeta Michea che dice proprio così quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità che non serva per sempre l'ira ma si compiace di usare misericordia si compiace è bello questo è edificante cioè ti tira su cioè ti fa capire che c'è speranza che non siamo abbandonati e non ce la dobbiamo nemmeno virgolette meritare questa misericordia no perché Dio è misericordioso c'era un altro verso molto bello mi sembrava che ricordavo questo eccolo qua lo vuoi leggere tu questo? leggilo tu ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono è la sua misericordia per i figli dei loro figli cioè che va avanti per sempre la sua misericordia non si esaurisce perché Dio è amore e questa la misericordia è un'espressione perfetta dell'amore di Dio bene direi che possiamo concludere sì Gesù concluderei con la parola del Signore Gesù noi possiamo essere attirati alla misericordia possiamo riscuotere misericordia soltanto se riconosciamo che Dio Padre ha mandato sulla terra suo figlio Gesù Cristo diversamente vuol dire che siamo noi voi con tutti quelli che non vogliono credere in Gesù come Dio fatto su uomo in carne ed ossa vero Dio e vero uomo vuol dire che siamo noi che abbiamo chiuso la busta perché Dio la pace l'ha fatta subito con noi è vero Gino quindi Gesù dice qua tutto ciò che il Padre mi dà mi dà non cosa le persone le anime tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me colui che viene a me non lo respingerò misericordia perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di quanto egli ha dato mi ha dato ma lo risusciti nell'ultimo giorno questa infatti è la volontà del Padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna io lo risusciterò nell'ultimo giorno qui ne parliamo la prossima volta perché ho scelto questo versetto perché qui non si parla solo di misericordia ma anche di grazia qui non soltanto Dio perdona mediante Gesù Cristo facendo misericordia ma non solo non punisce secondo la gravità dei nostri peccati no in più ci dona non solo ci perdona ma ci dona anche la vita eterna la grazia la definizione di grazia ve la dico la prossima volta di grazia